ciao ragazzi oggi recensione su auricolari bluetooth della boia modello by ap1 sono arrivati di due colori andiamo a vedere un po il contenuto della confezione e le caratteristiche tecniche ed eccoci qua ragazzi vediamo subito il contenuto della confezione ma prima diamo una veloce occhiata alle caratteristiche del prodotto vediamo un bluetooth di versione 5 una frequenza un range di frequenza dai 20 ai 20 mila hertz una portata di più o meno dieci metri a la spina type c e niente ovviamente un prodotto adatto sia per ascoltare musica e sia per comunicazione al cellulare allora io direi di andare a vedere velocemente il contenuto della confezione ecco qua andiamo a vedere all'interno troviamo un'altra scatoletta che all'interno c'è il cavetto per caricarlo tramite appunto attacco type c e una custodia insieme in pelle ok andiamo a vedere l'interno qui c'è un simpatico pulsantino ed ecco qua se si può notare andiamo a so se si nota a due diciamo linguette per la carica quando vengono posizionati ovviamente noi andiamo a mettere l'attacco type c si ricaricano qui c'è un led probabilmente che dove andiamo a vedere se la carica è stata completata niente ragazzi sono veramente carini ragazzi io le ho provate funzionano veramente bene ve le consiglio ricordiamo che ci sono sia bianche che nere cosa dire al prossimo video grazie a tutti